Il corso Allineamento Strategico Agile offre un approccio pratico e immediatamente applicabile, combinando l'Agile con lo Shinkanry per ottimizzare i progetti di prodotti e servizi. I partecipanti apprenderanno metodologie avanzate per migliorare la coesione del team e allineare gli obiettivi strategici, riducendo i conflitti e favorendo una comunicazione chiara e fluida. Grazie a strumenti innovativi, il corso permette di ottenere risultati concreti e misurabili, garantendo il successo dei progetti e un'organizzazione più efficace e reattiva ai cambiamenti. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.